eccoci qua buon pomeriggio a tutti ben ritrovati buongiorno buon pomeriggio aspettiamo ancora qualche secondo che arrivano gli ultimi oggi abbiamo di nuovo tanti registrati a questo webinar e parleremo come potete vedere dalla prima slide di digital marketing strumenti e tecniche abbiamo pensato questo nuovo webinar come diciamo plus da offrire ai nostri partner per promuovere le proprie aziende perché uno dei problemi oggi più importanti è farsi conoscere a mio avviso nel senso che conosco tantissime aziende tantissimi installatori e partner che hanno delle capacità impressionanti dal punto di vista tecnico e professionale ma alcune volte diciamo così dimenticano di raccontare di se stessi della propria azienda e questo potrebbe essere un plus per aumentare naturalmente il volume d'affari e ancora qualche secondo vediamo se arrivano anche gli altri intanto giusto per chi si è collegato per qualsiasi problema sulla piattaforma su go to webinar potete tranquillamente ascoltarci anche in diretta su facebook ad ogni modo il questa di oggi verrà registrato e poi pubblicato su youtube sul canale di estos per quanto riguarda i webinar ricordo che sempre sul canale ci sono anche tutte le precedenti puntate abbiamo parlato di gdpr abbiamo parlato di decreto pure italia almeno quelli che erano quelle che erano le prime fasi anzi spero che per tutti quanti la fase 2 abbia portato dei cambiamenti positivi passo passo stiamo tutti quanti affrontando questa cosa nuova voglio dire ma credo che ne usciremo vincenti noi italiani abbiamo sempre il jolly in tasca e ecco molti molti mie amici anche così mi conoscono mi dicono ma tu sei pazzo cosa ti metti a fare tutti questi webinar un sacco di ore di lavoro per prepararli di notte e quant'altro si è vero però dall'altra parte credo anche che portare informazione alla propria rete di partner alla propria rete diciamo business è un valore estremamente positivo e che sicuramente può aiutare oggi appunto parleremo di digital marketing proprio perché una persona che conosco da un po di tempo che si chiama federico e che oggi voglio dire ci aiuterà a capire meglio come muoverci come poter promuovere la propria azienda vi spiegavo prima oggigiorno è importante far capire quello che facciamo è importante raccontare anche di noi e abbiamo anche tutti gli strumenti per poterlo fare rispetto a un tempo cioè provate a pensare solo qualche anno fa anche solo dieci anni fa o quindici anni fa quanto poteva costare per un'azienda avviare una campagna marketing avevamo dei canali cosiddetti offline quindi carta stampata piuttosto che riviste specialistiche tutti noi conosciamo benissimo le riviste del settore di qualche tempo fa tipo la soia il piuttosto che e dall'altra parte promozioni radio televisive con degli spot che in questo caso molto onerosi e molto costosi oggi abbiamo uno strumento bellissimo del web con una capacità di captare il pubblico che è spaventosa chiaramente bisogna utilizzare lo strumento da maniera opportuna altrimenti rischiamo semplicemente di lavorare a vuoto e credo che con investimenti anche piuttosto esigui voglio dire si possono fare veramente grandi grandi cose l'azienda di oggi è questa che state vedendo vediamo se riesco a farla vedere meglio anche un attimino su perché è collegato su facebook eccola qua e federico ci racconterà appunto come mettere in atto una strategia marketing vicente ci racconterà la regola del 6c ma parlo lascio parlare a lui vedremo poi una cosa molto importante che è quella proprio della creazione dei contenuti direi uno dei punti salienti quasi perché lanciare le campagne giusto per fare dire dei post non ha molto senso ci farà capire con quali strumenti poter lanciare le campagne marketing gli strumenti di analisi poi perché altrettanto importante analizzare quello che abbiamo fatto e man mano parare il colpo per ottenere i massimi risultati e quindi agganceremo poi questo alla gestione del fan nel cioè ovvero una volta che abbiamo così raccolto interesse da parte del pubblico che abbiamo contattato capire come gestire poi il follow up ci sono gli strumenti ottimi proprio per far questo e brevemente per chi si è collegato e non mi conosce sono alessandro parisi che sono signor sales director international di estos italia estos è un gruppo un'azienda che nasce in germania siamo una software house e ci occupiamo di unify communication per chi non è del settore moduli specifici per le telecomunicazioni ovvero per creare interazione fra proprio il canale comunicativo e l'essere umano di dare all'umano tutte quelle informazioni importanti strategiche legate all'inter locutore ok quindi questo è quello che facciamo noi presento federico vitiello digital marketing e growth hacker che ho invitato oggi si è reso disponibile per darci una serie di informazioni molto importanti ciao federico ben arrivato ciao alessandro ciao a tutti è un piacere chiacchierare con te e anche parlare di questi di questi argomenti insieme a chi si è collegato a proposito di quello dico subito noi lanciamo delle delle idee e delle esperienze mie e tue e lo scopo chiaramente non è quello di coprire tutto quello che si può fare ma di far venire voglia di approfondire su alcuni temi è primo tra tutti l'approfondimento può essere alla fine di questo di quest'oretta chiederci cosa vi interesserebbe approfondire e se non si può rispondere al giro di qualche secondo sicuramente potremo mandare dei link di approfondimento quindi sia man mano che ascoltate prendete appunti sia su quello che vi convince e vorreste approfondirsi su quello che non vi convince e magari vorreste chiedere sì ma a me è successo quest'altra cosa in quest'altro modo esatto tal proposito abbiamo dedicato una sessione finale di q a dove possiamo darvi delle risposte dirette oppure come dice federico vi mandiamo dei link dei siti informativi mi sono dimenticato di dire che ho insieme a federico abbiamo tarato questo questo intervento in maniera specifica sul settore degli installatori telefonici degli informatici delle city quindi abbiamo voluto diciamo così plasmare i concetti marketing a un settore che tutti noi conosciamo molto bene credico lascio la parola a te che sei il massimo esperto e tanto ti ringrazio nuovamente grazie alessandro non so se esperto ma sicuramente sono un operaio del settore sono uno che a cui piace mi definisco mi auto definisco nerd mi piace esplorare e provare tutte le possibili combinazioni che ci sono il che vuol dire che quello che racconto di solito in aula e ultimamente visto la distanza fisica racconto di via via web come come adesso deriva da spesso da esperienza ma soprattutto da errori fatti a questo proposito faccio una brevissima introduzione io arrivo da un background tecnico quindi ho studiato programmazione canzi mi piaceva anche parecchio però entrato nel mondo del lavoro ho scoperto anche la passione per la comunicazione quindi ho cominciato nel 2007 con la seo search engine optimization che sarebbe assicurarsi che quando crei un sito questo sito non sia una cattedrale nel deserto ma abbia la stradina che lo connette al resto del mondo questa stradina è google di solito e lo racconto perché ho iniziato pensando di essere avvantaggiato che con una serie di pezzi di codice di trucchetti da hacker appunto si potesse arrivare molto lontano e man mano con sudore sangue mi sono reso conto che quello che veramente fa la differenza è mettersi nei panni della persona che sta dall'altra parte dello schermo ed è il punto di vista che vi racconterò oggi un po con esempi e un po con una struttura che alcuni conoscono che quella del content marketing su cui ho aggiunto qualcosina di mio l'immagine che vedete perché una quella che adesso ha appena passato alessandro è un ted che ho tenuto per che vi metto per raccontarvi perché in quel ted ho raccontato gioie e dolori dell'aprire una piccola attività una start up ed è una cosa che ha aggiunto un tassello importante il mio modo di vedere la comunicazione perché ho avuto la fortuna di cominciare con un'agenzia che lavora su tutto il territorio italiano e anche internazionale quindi lavorare subito su grossi clienti con dei budget importanti già di advertising digitale fa impressione magari perché ha cominciato subito con old west limoni profumerie il dipartimento del tesoro ma se devo essere sincero ho imparato di più da questa esperienza di start up e da altre perché è molto più facile andare a colpi di le vecchie lire o gli euro e costringere le persone a guardare un messaggio piuttosto che quando non si ha budget non siano soldi per cacciare in fondo la gola le cose che vuoi che vuoi dire alle persone ma quello che tocca fare appunto mettersi nei panni di e questo porta la prossima slide in cui in cui vi racconto di quello che è la mia fissazione cioè se tu stai chiedendo qualcosa a me che sono dall'altra parte dello schermo cosa che mi stai dando in cambio e non mi interessa il fatto che tu pensi che sei o magari sei veramente il leader del tuo settore il più bravo in hai ricevuto 8 premi no cos'hai da cos'hai da dare a me e in cambio del mi piace o dell'iscrivermi cosa cosa mi stai dando perché per me tu sei un estraneo non è che perché siamo sul digitale le regole ma non dico neanche del bon ton semplicemente delle interazioni sociali non è che sono cambiate e vediamo la prossima vado con la regia e posso subito con un esempio con un esempio concreto chi è questo vediamo se ognuno risponde nella sua nella sua testa chi è e penso che alcuni di voi abbiano subito detto alex zanardi e spesso faccio questa domanda per quella fortuna di calcare al di fuori dal covido fortuna di calcare aule di con diversi fasce d'età ed esperienze e mi succede di quando faccio lezioni al sole 24 ore o a confindustria che tutti quanti rispondano e sappiano benissimo chi è alex zanardi e invece quando faccio lezioni a ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro che magari sono appena usciti dalle superiori o ci sono in parte anche dentro succede purtroppo che nessuno lo conosce e la reazione di noi vecchietti è quella di dire non lo conoscete male perché è un è un esempio per tutti quindi un testimonio perfetto vediamo quello dopo però vediamo se lo riconoscete adesso è un po più famoso però un annetto fa che quando ho inventato questo questo confronto era molto meno conosciuto perché l'unica cosa per cui era conosciuto era uno youtuber che fa contenuti demenziali quindi intrattenimento demenziale poi c'è anche una sua motivazione dietro un suo modo di vedere le cose però in superficie lo vedi come un ragazzetto che fa cavolate online e perché ve li contrappongo perché la risposta è dire talmente opposta no il pubblico di confindustria solo 24 ore non sa non sa dirmi chi è e tutti i ragazzi giovanissimi invece sanno dirmi che è che mi porta alla sala successiva grande la regia di alessandro che mi permette di parlarvi di come sia importante concretamente mettersi nei panni delle persone a cui vuoi parlare mettiamo che tu sia i musei di bologna e vuoi promuovere la cultura l'accesso ai musei e quindi un beneficio per le casse del comune dello stato ma soprattutto un beneficio morale del fatto che le nuove generazioni si avvicinino alla cultura e la storia che abbiamo che il nostro grande bagaglio di in italia bene lo puoi fare con con un qualcuno che ispira che che un esempio per tutti che alex danardi oppure renderti conto che quella persona non è conosciuta dal target alle persone a cui ti rivolgi ma è più conosciuta questa che sembrerebbe assurdo perché fai fare un una promozione di qualcosa di culturale a un ragazzetto tra virgolette che fa cosa differenziale online e invece se andiamo oltre questo nostro metterci dal nostro punto di vista facciamo questo sforzo di metterci dal punto di vista di chi sta dall'altra parte dello schermo abbiamo qualcosa di molto grande da ottenere perché pensate cosa succede chi di voi quando ha aperto youtube o quando è andato a vedere la tv diciamo restiamo su youtube quando hai visto quella pubblicità che c'era che ti costringeva aspettare quei cinque secondi hai detto no no aspetta io non faccio salta pubblicità me li guardo tutti perché effettivamente sono piacevoli non succede no cioè odiamo la pubblicità non sicuramente non andiamo a cercarcela bene lui sal per conto dei musei di bologna ha fatto uno spot da cinque minuti che io e da e tante altre persone a diverse centinaia di mila di visualizzazioni siamo andati a vederci volentieri senza dover senza che i musei abbiano dovuto spendere per la distribuzione quindi costringerci a vedere non hanno dovuto spendere neanche un euro ma non solo vi dirò di più non ne ha fatto solamente uno ma ne fatti tre cioè qual è la volta in cui finito un uno spot pubblicitario hai detto io quasi quasi vado a vedermi la continuazione poi quasi quasi vado a darmi ancora di più la continuazione ecco fare questo sforzo il fatto che siamo sul digitale non vuol dire che non dobbiamo metterci nei panni di e anzi sono cambiati un po i pesi poteri vai pure avanti alessandro per cui il web noi pensiamo che sia un palcoscenico in cui tutti pendono la nostra labbra no una delle delle domande che ricevo più spesso quando si parla di pagine facebook instagram linkedin che poi il principio è lo stesso sono solo contesti diversi in cui è bene contestualizzare ma i principi i modi di delle cose sono 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 le stesse dicono ho sentito che su facebook ci sono due miliardi e mezzo di utenti attivi al mese perché queste persone non sono interagiscono con la mia pagina la realtà è che quello è un contesto sociale quindi tu non sei veramente su sul sul palco che parli a tutti come se fosse una star tu sei in una stanza in cui ci sono tante altre persone ma non sono ad ascoltare te sono ognuno nel suo gruppetto e questo è il il parallelo più importante da ricordarsi un contesto sociale un contesto sociale c'è stata una fase strana iniziale dei dei social in cui tutti quanti pensavamo di essere delle star e poi man mano ci siamo resi conto che pensare di parlare verso tutti pensi di essere una star ma alla fine sei come stai facendo vedere adesso sei uno scemo come come jim carri in scemo più scemo alessandro questo era l'invito ad andare avanti esatto quindi di fatto scusa se ti interrompo è questa proprio una delle challenge del del canale voglio dire social il fatto che mentre una volta la pubblicità la subivamo quindi te eri la a cena il carosello trope cavi giusto la pubblicità te la beccavi o male cioè scanalavi ma comunque era molto invasiva invece ora uno può scegliere quindi decide in che gruppo stare cosa ascoltare e il potere in questo senso si è spostato dalla parte dell'utente non siamo consapevoli che è così ma è così abbiamo più potere di scelta e tra l'altro una delle statistiche che mi piace di più che ho visto recentemente e mi piace sempre questa slide con con jim carri e incredibile una delle statistiche che 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 ho notato che che mi piace di più se volete andatevi da vedere we are social è un'agenzia mondiale che pubblica come content marketing delle statistiche gratuitamente è un italiano su tre ad bloc installato cosa vuol dire che se tu anche ai soldi per raggiungerlo quindi anche le grandi aziende di cui parlavo all'inizio se non fanno vedere qualcosa che mi interessa non hanno modo di raggiungermi perché io installo ad bloc e la tua inserzione all'inizio sul su youtube non la vedo quindi non tutti ma chiaramente il ragionamento di mettersi nei panni di a chi voglio parlare e non è più neanche una questione etica o di fare le cose fatte per bene ma una questione di ritorno reale ritorno sull'investimento vai pure avanti alessandro quindi appunto come dicevo il fatto non sono tutti là ad ascoltarti ma sono divisi in piccoli gruppi esattamente come di persone in una stanza saremo divisi in piccoli gruppi quindi la prima cosa che dobbiamo fare non è quella di se apriamo una pagina e cominciamo chiaramente a scrivere e raccontare quello che facciamo perché è normale che sia così è come vestirsi per riuscire da casa devo devo avere una storia che mi che mi descriva ma quella di vestirsi per uscire da casa è necessario ma non è sufficiente a conoscere altra gente e quindi la prima cosa che faccio quando arrivo in una stanza di sconosciuti è ascolto di persona è intuitivo online non così tanto è una cosa che dico spesso è ascolto per sentire una cosa che quando dicevo mi sono reso conto che non è un lato non è una cosa tecnologica ma è una questione di approccio e di sapersi mettere nei panni di chi c'è dall'altra parte e concretamente anche per esempio se andate a utilizzare strumenti per il tracciamento per andare a vedere quella che si chiama sentiment analysis che è una delle tante branche che si possono approfondire nel digital marketing ci sono strumenti come mention come bazzumo che ti permettono o semrush che ti permettono di andare a vedere cosa dicono gli altri sul web però se ascolti le cose sbagliate se ascolti solamente per ascoltare delle parole chiave e non sei veramente interessato a cosa fanno a quali sono le passioni delle persone a cui ti stai rivolgendo che vorresti sperare che comincino a fidarsi di te ecco che fai figure barbine per cui confondi il mandarino in questo caso il frutto con il mandarino che è il parlare in cinese e quindi fai figure per cui una parola chiave non è quello puoi andare questo anche lo spunto per andare avanti alessandro per cui non 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 hai veramente ascoltato ma aspettavi il tuo turno di parlare ecco se c'è una una cosa da portarsi a casa oggi la prima che vorrei che fosse è dopo aver pubblicato i miei post mi sono chiesto se ho qualcosa da imparare dalle persone che vorrei che mi seguissero risposta è sì però deve deve anche trovare cose questo qualcosa allora accennato prima il content marketing all'inbound marketing è un modo di vedere la comunicazione il marketing un tipo di marketing che è sempre esistito se volete cercare i sinonimi sono inbound marketing content marketing e permission marketing e che si contrappone a quello che di cui parlavi tu alessandro il il carosello in cui ti interrompo mentre tu stai facendo qualcosa ti costringo a vedere quello che io voglio che tu vede questo inbound marketing mi ha messo a posto una ricerca così su google perché trovate un sacco di risorse a riguardo la prossima slide ve ne mostra una cerca di portare l'utente la persona cerca di portarla da estraneo a sinistra a ad avvicinarsi per cui mettiamo che voglio vendere facciamo un esempio veramente banale voglio vendere un negozio che vede chitarre elettriche o chitarre e voglio promuovere il mio negozio una possibile strategia potrebbe essere invece di dover parlare sempre di me stesso e quindi essere quello scemo di villaggio che pensa di essere sul palco online potrei aprire un canale youtube o pubblicare sulla mia pagina facebook e insegnarti a suonare la canzone del sole benissimo te l'ho insegnato tu quindi qualcuno attratto è nato a vedersi il contenuto il video in cui insegno a suonare la canzone del sole dice beh ok questo se non esperto come minimo è affascinato interessato mi fa delle recensioni mi racconta come sono le chitarre vado a iscrivermi al suo canale e quindi da estraneo divento visitatore a quel punto forse mi interesso lead e dopo posso passare per cliente se mi sono trovato particolarmente bene divento promotore verso gli altri attenzione che non è detto che uno succede molto spesso che quelli che vi seguono online non comprino ok e tu dici ma cavolo faccio tutto questo lavoro e poi non compri da me ma comunque è un target interessante perché qualcuno che non compra pensate alla vostra esperienza a canali a cose che avete seguito e che ti capita di consigliare a qualcun altro qualcosa che tu magari non hai comprato semplicemente perché quel canale è stato abbastanza bravo da conquistarti da conquistarsi prima la tua attenzione poi il tuo tempo e infine la tua fiducia se io mi fido di te anche se non ho comprato niente consiglierò te a qualcun altro e questo non è non è una questione etica di nuovo o non è una questione di facciamo le cose in modo che ci divertiamo no è proprio una questione di ritorno sull'investimento è difficile riuscire a ritornare del budget di tempo che impieghi nella creazione di contenuto a meno che non arrivi e qua Alessandro passa alla slide dopo non arrivi a capire che questo stesso schema in realtà si mette in verticale da qua alcuni forse l'hanno sentito nominare si chiama funnel quindi imbuto attenzione che non è un imbuto non è uno scivolo non è in cui tutti allegramente dai strani all'inizio su attraivano a finire giù in delizie promotori acquistano no e questo è per ricordarci che la grandissima parte delle persone che si approcciano a noi e che non ci conoscevano non compreranno mai li perdiamo motivo per cui è quasi impossibile ritornare dall'investimento che hai fatto faccio una serie di video in cui insegno a suonare la chitarra eccetera eccetera magari anche li promuovo e quindi uso dei soldi è quasi difficile quasi impossibile per tornare l'investimento se non alla fine non ottenuto quella parolina che vedete in fondo che è i promotori cioè qualcuno che si è appassionato alla mia ha capito che sono appassionato si fida di me e magari anche mi sente familiare e diventa un super potere diciamo parlando un esempio pratico noi che siamo nel settore informatico io direi siti e comunicazioni potremmo creare un sacco di contenuti perché potremmo insegnare ad esempio le best practice per la security aziendale che diamo molto per scontata magari vendiamo dei firewall che costano milioni di euro migliaia di euro centinaia di migliaia di euro ma però abbiamo scontato che il nostro cliente conosca diciamo i parametri della security questo è un esempio stessa cosa per gli strumenti di unify communication diamo per scontato che l'azienda conosca la materia mentre potremmo fare delle attività formative creando dei tutorial spiegando di cosa si tratta dando sempre delle idee degli spunti quindi anche noi in questo settore possiamo creare molto voglio dire a livello di contenuto sì sono d'accordissimo tutto questo è un modello che trovate online gratuitamente perché giustamente i miei colleghi marketari fanno quello che dicono e quindi tanti fanno formazione gratuite trovate queste cose uno che vi consiglio tra l'altro se volete invece approfondire e avere un buon un buon estratto un ottimo formatore su questo è Seth Godin talmente bravo che è tradotto anche in italiano quindi se cercate se questo è marketing di Seth Godin trovate un libro che riassuma un po' questi concetti e dicevo su questo qua c'è la descrizione di cosa succede cioè cosa devo fare io vai pure avanti qua sono una serie di azioni che si possono fare ma li lasceremo magari come slide chi ha seguito questa retta insieme quello che vedete qua invece è il mio tentativo di descrivere cosa devo fare io cioè a un certo punto dopo un po' di anni di attività in diversi contesti di cui non vi ho parlato per non tediarvi mi sono reso conto che io avevo bisogno di capire cosa devo fare prima di ottenere quel famoso contenuto che attrae l'estraneo se là succede la magia se creando qualcosa un contenuto attiro qualcuno che non mi conosceva io voglio conoscere voglio sapere quali sono le attività che mi permettono di ragionare al modo giusto per creare quel contenuto ed ecco che ho sentito bisogno di creare questi passaggi e questa è la prima necessità espressa e la seconda lo vedete circolare perché non vi ho citato a caso l'esperienza l'attività in startup perché lo vedo come un'attività iterativa cosa vuol dire circolare vuol dire che tu cominci a muoverti cominciando dal conosci vai su conosci, crea, coinvolgi, verti, coltiva, consolida e poi ricominci con il conosci ricominci con il conosci perché uno degli errori che facciamo è non partire con la comunicazione perché pensiamo che non sia non sia tutto quanto pronto perfetto la verità è che impariamo molto di più dal partire e da vedere cosa piace e cosa non piace anche se ci sentiamo non pronti e questo l'ho imparato dall'attività in startup e in particolare dal movimento delle lean startup questo è un metodo iterativo per cui parto con un'ipotesi nel conosci nella fase del conosci ci sono una serie di azioni che consiglio oggi non abbiamo tempo di vederlo ma se volete sul mio sito lo approfondisco e volentieri se mi contattate poi vi mando altri contenuti nella fase di conoscenza conosci te stesso quindi quali sono i tuoi valori cosa rappresenti in modo da non dover parlare solo del tuo prodotto ma anche di quali sono le tue passioni il tuo modo di vedere il mondo conosci te stesso conosci la persona a cui ti rivolgi anche qua ci sono una serie di cose che puoi fare per conoscerla e conosci i tuoi competitor una cosa che dico sempre scherzando è che abbiamo imparato tutti quanti a scuola a copiare non so tu Alessandro ma io a copiare e poi ci dimentichiamo ci dimentichiamo di farlo quando lavoriamo e la verità è che non succede mai che il primo che ha un'idea è quello che ce l'ha nel modo giusto è molto più facile osservare gli altri prendere quello che funziona vedere quello che non ci piace e ci viene l'idea di come farlo in un modo diverso attenzione che però se faccio solo questo che ho appena descritto si chiama benchmark dei competitor e io lo chiamo più semplicemente copiare se mi metto solo a copiare io chiamo tecnica Robin Hood tecnica Robin Hood esatto se mi metto solo a copiare però finisco da Robin Hood finisco ad essere un arlecchino se non ho prima chiarito chi sono io e cosa rappresento perché copio un po' di qua un po' di là e non sono memorizzabile non sono riconoscibile motivo per cui queste tre attività vanno fatte tutte e tre dopodiché creo il contenuto e il contenuto l'ho separato nella fase della condivisione del contenuto perché il valore di base è che io ti ho insegnato quella canzone con la chitarra non il video della canzone con la chitarra quindi quell'insegnarti potevo farlo anche con un articolo su un blog potevo farlo mandandoti in una newsletter potevo farlo in una live chat sul mio sito mentre mi stai contattando e di persona facendo una consulenza gratuita via web addirittura o di persona non è detto che devono essere dei canali digitali per forza tutto questo di cui stiamo parlando lo stiamo applicando al digitale semplicemente perché è il contesto in cui è fondamentale farlo perché come dicevo il bilanciamento di potere è cambiato o faccio così o il mio utente se ne va da qualcun altro ma vale anche di persona se sono costretto a stare in una stanza con te però mi sto annoiando magari riesci a rubarmi quell'oretta mentre online non mi rubi più di mezzo secondo però comunque non mi ritrovi più ok quindi poi il coinvolgi non è anche a caso vi sto facendo un sommario veloce di questo mio modo di vedere la comunicazione perché se poi vi interessa la approfondite se no evito di allungarvela troppo ma vi metto l'accento sulle cose che secondo me che mi sono reso conto che hanno fatto la differenza per esempio potevo chiamarlo mantenendo questo mio 6C potevo chiamarlo condividi che sarebbe la parola che ci viene istintiva condividi un post l'ho chiamato coinvolgi per cercare di limitare gli errori che io stesso faccio che è di creare contenuti e pubblicarli come se fosse un regalo che faccio al mondo una cosa che voi dovete prendere e adorare classica sensazione di perle ai porci no esattamente il contrario non è che stanno ignorando le cose che tu crei e quindi sono perle ai porci ma il contrario tu dovresti vederle come un'apertura di una conversazione se quello che io sto pubblicando non ha la funzione di aprire una conversazione quindi di farti sentire coinvolto implicitamente o esplicitamente cioè tu devi avere una conversazione interna in cui lo senti tuo oppure ancora meglio aver voglia di partecipare in quello che faccio ecco se non fai quello stai veramente sprecando lo strumento digitale perché non è un tubo catodico in cui tu sputi contenuti in un'unica direzione o meglio puoi farlo ma poi il motivo per cui non hai successo non è colpa di Zuckerberg o degli algoritmi di Facebook che non ti fanno vedere i post non abbiamo tempo adesso per vedere bene come funzionano gli algoritmi ma se volete anche su quello posso approfondire in altri contesti con più tempo posso spiegarvi come funzionano gli algoritmi la versione brevissima è che premiano chi è in grado di appassionare le persone quindi se voi fate contenuti che coinvolgono e che quindi creano quella che si chiama interazione interactions e non sono solamente i mi piace e i commenti qua vi lascio con una suspense su cos'altro c'è che conta più dei commenti delle condivisioni e dei mi piaci c'è qualcosa che conta molto di più e qua veramente voglio lasciargli la suspense se crei vero coinvolgimento allora vieni premiato e questo succederebbe anche di persone poi vado avanti sul converti ovviamente una volta che hai dato valore chiedi qualcosa in cambio devi saperlo chiedere sul posto del coltiva se vi ricordate lo schema che avevamo visto prima c'era il delizia e sul delizia una cosa da dire importante è che non farlo è il motivo per cui tanti noi marchettari siamo visti come fuffaroli cioè tu proponi mari e monti poi alla fine stringi stringi dove la ciccia non c'è mi è venduto qualcosa mi è venuto aria fritta ecco quello non solo non fa non fa giustizia a questo lavoro ma è anche controproducente è un cattivo investimento del mio stesso tempo non solo del tuo perché come dicevo se non hai creato qualcuno che si è trovato veramente bene e non diventa promotore stai perdendo l'investimento quindi devi come dicono l'inglese under promise over deliver devi dare più di quello che uno si aspetta che tu riceva però lo chiamo coltiva ovviamente perché ci tengo a tenere questa 6c ma c'è anche un motivo che mi permette di ricordare che non è una cosa che tu fai una volta fai una gran figata ti ho regalato una torta sucker ti ho deliziato e poi per i sei mesi successivi ti ignoro completamente non funziona ho creato un rapporto? no non ho creato un rapporto un rapporto lo creò se il rapporto lo coltivo esattamente come una piantina se ho 50 litri d'acqua li ributti tutto addosso oggi non succede che o l'ammazzo adesso o l'ammazzerò quando non avrò più quei litri d'acqua se invece le metto una gocciolina al giorno ecco che l'ho coltivata veramente i rapporti e quindi anche le cose che fate per esempio con le newsletter non so cosa usate se MailChimp o MailUp o qualunque applicazione per esempio vi dico io so usare anche programmaticamente MailChimp e tanti altri strumenti di newsletter ma preferisco per il mio sito se vi scrivete sul mio sito su fedev.it l'e-mail che vi arriva la mando io manualmente perché finché non mi arrivano centinaia di richieste al giorno preferisco essere io che manualmente mando l'e-mail e sono in grado di personalizzarla o come minimo di rendermi conto essermi costretto a reser conto quante richieste mi arrivano ecco che questa è una piccola coltivazione cioè un coltivare veramente il rapporto e quello che succede è che sul digitale non funziona non per colpa del digitale non per colpa dell'algoritmo perché è talmente comodo che diventiamo pigri e dimentichiamo anche la parte di umanità che abbiamo nel gestire cose che invece sono sicuro che tutti voi che state seguendo sapete fare o nelle vostre consulenze o nelle vostre attività che di persona lo fate naturalmente e invece succede non so se sono l'unico che fa questo errore ma dubito perché ormai ne ho viste tantissime tantissime in realtà l'errore è sempre questo succede che online ci dimentichiamo di farlo ultimo è consolida per cui se non ci se non ci ricordiamo che tutte queste cose che abbiamo appena descritto finora vanno misurate ecco che prendiamo un altro treno guardate è l'opposto del coinvolgi nel coinvolgi vi dicevo stiamo sfruttando male lo strumento se non lo usiamo anche per parlare e per un dialogo vero e non solamente per una cosa univoca ecco dall'altra parte c'è il consolida non usiamo bene il digitale se non misuriamo che è un grandissimo vantaggio se io pubblico vedete il modo di pensare da digitale non è pubblico ma se faccio partire una pubblicità in tv o in radio o metto prendo uno spazio sul giornale non è detto che costi di più o di meno perché i pesi le misure dipendono dai periodi anzi magari in questo periodo costarà anche poco ma mi è difficile misurare cosa ha funzionato cosa no perché che ne so di chi mi è arrivato effettivamente invece online riesco a misurare tante di queste cose e ci sono una serie di strumenti e di attività che consiglio in questa fase a chi volesse approfondire che vanno delle analitiche di Google Analytics famosissimo dei pixel di tracciamento e retargeting ma soprattutto senza perdersi in quelle che si chiamano metriche della vanità cioè quei bei grafici che vanno verso l'alto e ci fanno sentire bravi ci diamo le pacche sulle spalle no l'obiettivo è qua dentro ricordatevi A B testing cosa vuol dire io sono partito dal conosci dalla prima fase in cui ho detto ho fatto un'ipotesi secondo me se faccio un tutorial su come suonare la canzone del sole le persone saranno interessate bene faccio tutto questo percorso se ho costruito bene il mio successione di passi di comunicazione ecco che qua saprò dire se è funzionato meglio quella canzone piuttosto che un'altra piuttosto che un'altra o piuttosto che una strategia completamente diversa perché avrò i dati per confrontarle con gli altri cosa farò successivamente magari mi rimetto a fare quello che ha funzionato lo faccio ancora meglio quindi quella canzone la faccio con un livello di produzione più alto ed ecco che di nuovo ho la scusa per cominciare in modo grezzo per cercare di testare il modo più economico possibile l'ipotesi che avevo inizialmente e l'obiettivo arrivare il più velocemente possibile a questo momento in cui so dire con dati certi alla mano cosa ha funzionato e cosa no ecco questo è il mio modo di vedere la comunicazione mi viene da dirvi digitale online perché stiamo parlando di questo ma in realtà vi consiglierei di applicarlo ad ogni tipo di comunicazione perché sempre di più l'utente che l'utente siamo ognuno di noi è abituato ad essere trattato bene quindi se non se non mi metto io nei panni di semplicemente lo farà un mio competito ok Federico voi andiamo avanti certo diciamo questa parte descrittiva vai pure avanti tutte queste qua le ho descritte adesso a parole perché le teniamo perché poi appunto potranno scaricare la presentazione esattamente in formato pdf quindi hanno avete a disposizione i testi quello che abbiamo appena detto ok e questo se volete è un esercizio che potete fare velocemente proposto più di dieci anni fa da Simon Sinek è quello che è diventato famoso che è il il golden circle il circolo dorato per cui se guardate la parola che c'è sotto è cosa what tutti sanno descrivere cosa fanno e quindi vendo chitarre elettriche qualcuno sa descriverti come lo fa quindi come sono le tue chitarre elettriche ma non so le mie sono colorate di blu o le mie sono particolarmente facili da mettere nella tonalità giusta o le mie sono indistruttibili cioè hai una cosa che le caratterizza ma quasi nessuno sa dirti perché lo fa e perché non è per fare soldi o non è per arrivare alla fine del mese quella è una conseguenza il perché è il tuo modo di vedere il mondo cioè io credo che la musica mi liberi la mente e mi permetta di essere felice come conseguenza faccio le le vendo le chitarre perché voglio che anche gli altri possano farlo se riesci a trovare il tuo perché ecco che diventa molto più facile non essere sempre avuto a differenziale cioè riesci ad attirare persone che saranno interessate a quello che tu hai da vendere che si fideranno di te perché si ritrovano nella stessa passione o nel stesso modo di vedere il mondo tu potrai parlare di quel modo di vedere il mondo scusa Alessandro gli stessi valori proprio voglio dire si identificano condividendo gli stessi valori se poi approfondite andate avanti nel piano editoriale che vi create di conseguenza vi renderete conto che è molto più facile non essere sempre autoreferenziale ma comunque attirare le persone giuste bisogna avere pazienza perché non è che un'altra cosa che si sbaglia è che si pretende che da ogni momento di interazione ci sia sempre una conseguenza tangibile e misurabile sto dicendo l'opposto di quello che dicevo prima è vero che si misura ma non è che mi ritorna sull'investimento della singola interazione devo costruire esattamente questo non è ah bene il digitale non funziona no di persona non funziona così Alessandro se ti incontro per strada e mi dici dammi 10 euro e dico ma cosa vuoi e mi dici no no tranquillo fidati mi fai tutta la storia che vuoi del mondo magari sei anche bravo a parlare e io dico questo qua è bravo a parlare però non mi fido se invece ti conosco da sei mesi o ti ho conosciuto ogni giorno anche se so che non ti vedrò dopo comunque mi fido perché ormai mi fido di te ci vuole tempo per fidarsi ok quindi questo è l'esercizio che consiglio di fare provate a cercare il vostro perché e cercate di immaginare contenuti basati su quel perché vedrete che vi vengono subito in mente tante più contenuti interessanti al di là del dover parlare del vostro prodotto e non state perdendo tempo state mostrando a chi vorreste che vi seguisse perché non vi sta seguendo a chi vorreste che vi seguisse state mostrando che siete veramente appassionati di quell'argomento e quindi come conseguenza saranno pronti ad ascoltare quello che avete da vendere ecco in effetti anche appunto adesso magari passiamo più agli aspetti pratici perché poi alla fine la difficoltà che abbiamo tutti noi non esperti voglio dire di marketing è che ok ho capito cosa voglio promuovere ho capito che ne so come identificarmi nel mio cliente ok perché voglio proporgli le termocamere per la scansione dei dipendenti faccio un esempio ok ho capito come guardarmi la fiduta devo anche identificare sicuramente i clienti devo fare una serie di azioni voglio dire prima di mettermi a lanciare campagne perché altrimenti faccio un sacco di lavoro a vuoto quindi bisogna mettersi correggimi se sbaglio Federico bisogna mettersi a tavolino identificare il cliente e poi creare un contenuto che sia virale cioè che non sia scontato ci sono un sacco di strumenti ovviamente per farlo prende un po' di tempo ma siccome voglio dire il web è molto visual il contenuto deve essere attraente altrimenti viene schifato come dici tu in qualche secondo e poi è importante capire che sulle diverse piattaforme non possiamo lanciare lo stesso messaggio questo magari tu lo puoi spiegare molto meglio di me e ci fai magari vedere anche come puoi agire tramite social cioè quali sono gli strumenti per andare a lanciare una campagna sui come dire sui sulle piattaforme più importanti no? ecco guarda prendo un esempio di una campagna che hai fatto tu per questa azienda si chiama Logo Arena è un'azienda che si occupa di loghi quindi contest è una piattaforma sostanzialmente web dove un'azienda che sta aprendo e creando una nuova realtà vuole crearsi la propria immagine e crearsi il proprio logo aziendale quindi semplicemente con un briefing può lanciare questo concorso e poi decidere qual è il logo che piace di più e per promuovere questa piattaforma questo logo Arena Federico ha realizzato alcuni alcuni contenuti virali ad esempio queste immagini dove la persona è tutta pixelata per far capire al cliente che se non si identifica bene anche dal punto di vista del logo nessuno lo noterà ok? e che man mano in questa campagna c'era questa automazione per cui la persona diventava più visibile passo passo ok? quindi questa era l'idea invece del classico post pieno di testo questa mutazione grafica da non ti vedo chiaramente non capisco chi sei a ti vedo chiaramente perché ti sei identificato bene anche dal punto di vista grafico del tuo logo correggimi Federico sì è parte dal sono cose che ho dovuto imparare sul terreno come dicevo prima quello che fa la differenza è chiedersi cosa può pensare le persone quindi gioca un po' sull'elemento curiosità di chiedersi cos'è cos'è quello cos'è che sto guardando e quindi di conseguenza sulla curiosità delle persone e questa tra l'altro è una cosa che era un'ipotesi cioè l'abbiamo testato abbiamo provato diverse versioni con diverse facce qua tu ne stai mostrando una ma abbiamo visto diverse variazioni sia per non mostrare sempre queste cose ma anche per vedere cosa funziona di più ed è una cosa che abbiamo provato rispetto ad altre alternative è una cosa che ha funzionato è l'esempio pratico concreto di quello che dicevo prima bisogna provare a testare diverse variazioni prima di poter dire cosa funziona e cosa non funziona ok ecco magari se ci racconti un po' ci spieghi un po' le caratteristiche che hanno le diverse piattaforme per capire come indirizzare meglio poi i nostri sforzi anche economici perché poi alla fine finiamo a parlare sempre di investimenti allora diciamo che lo faccio proprio terra a terra mi scuso con chi magari lo conosce già abbastanza approfonditamente ma sono sicuro che c'è qualcun altro che può giovarne i social network non sono tutti uguali ognuno si va a fare qualcosa di diverso facebook e instagram giustamente li abbiamo messi insieme perché sono a parte tutti e due proprietà di zuckerberg esatto anche se alcuni non lo sanno ma sono social network in cui si va a interagire con altre persone non è detto una cosa che che dico che è un po' controtendenza rispetto a quello che viene detto dai miei colleghi è che non è che ci sia ormai più questa divisione così netta non è detto che su instagram ci debbono essere solo le belle foto che è anche una cosa saluto ti ascia che sta seguendo che me l'ha chiesto stamattina per un progetto è vero che è nato come progetto per quello cioè come come piattaforma per quello per esempio instagram ed è vero che tende ad essere usata di più dai più giovani anche se non giovanissimi noi continuiamo a definirci giovani ma ormai alessandro e facebook facebook invece è usato da fasce più alte la gran parte degli utenti sono donne torno ai da 30 ai 50 abbondanti ma in realtà ci sono di tutto di tutti quindi facebook e instagram in particolare sono talmente diffusi che c'è di tutto è come quello che dicevo prima non ci sono 2 miliardi e mezzo di utenti c'è una stanza in cui ognuno fa qualcosa di diverso e quindi per esempio se voi andate a vedere non sono riuscito adesso perché il computer tra l'altro sta facendo un po' di scherzi quindi non voglio provare a condividere vediamo dopo se funziona lo facciamo alla fine così in caso ritorniamo indietro ma se andate a vedervi su instagram commenti memorabili è una pagina instagram che ha un successo enorme ha tantissime interazioni non è una pagina pro bono oppure un'altra è scuola zoo per esempio che fanno contenuti anche qua meme cose divertenti e graficamente sono terribili sono tagliate malissimo se tu vai a vedere il profilo di scuola zoo di commenti memorabili è di una bruttezza infinita eppure ha un enorme successo su instagram questo cosa ci dice che la piattaforma ha un contenuto diverso per persone diverse qualcuno i duri e puri iniziali di instagram ci vanno e sono infastiditi che siamo arrivati tutti noi a rovinargli la piattaforma e ci vanno per vedere belle foto ed è ancora effettivamente il focus di instagram l'immagine l'immagine bella ma c'è anche quello e non va ignorato va deciso strategicamente quindi non copiamo gli altri giusto per copiare ma chiediamoci cos'è che vogliamo fare per noi poi una cosa che ovviamente è ovvia ed è così è che linkedin invece è il posto dove per fortuna ci sono un po' meno foto di gatti e di tramonti è un po' più focus sull'attività lavorativa quindi è dove abbiamo il nostro corrispettivo del curriculum in digitale e dove pubblichiamo in teoria articoli e cose relative al lavoro che facciamo ecco provo a darvi anche un consiglio strategico proprio per linkedin sia che lo usiate come profilo personale ma anche che lo usiate come profilo aziendale non dovete diventare influencer di linkedin perché linkedin abbia un ritorno sull'investimento per voi perché immaginate questo scenario Alessandro parla parla di me a qualcuno che incontra la prossima meeting di lavoro e dice guarda Federico ha gestito questa campagna per questa azienda che ho visto l'ha fatto bene mi è piaciuto sia il ragionamento che ha fatto sia i risultati ecco questa persona a cui Alessandro ha parlato sicuramente stima Alessandro quindi gli crederà però prima di chiamarmi prima di contattarmi cos'è che fa cos'è che facciamo tutti ricerca su google e se voi cercate il nome e cognome il vostro nome e cognome su google cos'è che trovate se non avete un sito web trovate sicuramente per primo linkedin e poi probabilmente facebook quindi anche facebook in parte va considerato in questo modo e c'è chi ha perso lavoro per questo e quindi anche se mi segue nessuno zero persone comunque c'è un ritorno e questo sto dicendo a livello di brand personale ma ovviamente vale anche per le aziende ho un ritorno perché quando parlano di me a qualcun altro o quando io stesso mi propongo agli altri tutti quanti cercano su google il mio nome o il nome del mio brand e vanno a vedere cosa faccio allora se ho un vecchio sito stantio senza aggiornamenti che immagine do sono appassionato di quell'argomento uno addirittura si chiede se sono fallito cioè se sto chiuso come azienda e se sono una persona che dice di essere appassionata di marketing ma andate sul mio linkedin e vi invito ad andarci andate a vedere Federico Vitti e lo scoprirete che io lavoro a tempo pieno in un'azienda sono digital marketing manager in un'azienda faccio corsi serali quando c'erano le aule aperte adesso come vedete anche webinar e trovo anche il tempo di registrare podcast a tema di crescita personale e professionale e di comunicazione magari magari non sarò esperto nel mio settore ma penso che non ci sia nessun dubbio del fatto che io sia appassionato conta quanti quanti like ricevo su quei post io direi di no e non conta neanche non mi interessa neanche che la persona a cui ha parlato Alessandro sia andata effettivamente ad ascoltarsi un episodio del mio podcast ha visto ha visto i titoli e si è fatto un paio di domande ha detto questo qua ogni settimana da due anni pubblica qualcosa per cui nessuno lo paga direi che non c'è dubbio sul fatto che sia un tema in cui ci mette tutto ok quindi trattate LinkedIn in questo modo non cercate di seguire la crescita ad ogni costo perché vi porta a copiare cose che sono di massa e non c'è bisogno ormai il web il digitale ha raggiunto una maturità tale soprattutto dopo questo periodo di covid che porta un sacco di cose negative un sacco di problemi all'economia e di persone che purtroppo stiamo perdendo ma una cosa di positiva che sta portando è che tutti quanti si sono affacciati ancora di più al digitale sono resi conto che si può raggiungere tanto e tra l'altro secondo me abbiamo aggiunto anche un po' di umanità a queste interazioni siamo tutti quanti un po' più a nostro agio in queste chiacchiere in queste interazioni dove sto guardando un buco una telecamera anzi due perché Alessandro mi ha costretto a collegarmi a due telecamere diverse quindi ogni volta mi guardo una diversa quindi abbiamo aggiunto questa umanità non c'è bisogno di copiare quelli che fanno l'influencer l'obiettivo è rappresentare me stesso nel modo più sincero possibile verso qualcuno che ancora non è entrato fisicamente nella stessa stanza come è ecco che la persona che ha parlato con Alessandro e gli ha raccontato cosa faccio a quel punto mi chiamerà con YouTube e su Google cosa vogliamo usare giusto per perché dopo passiamo avanti siamo un po' stretti con i tempi certo YouTube allora YouTube vado velocissimo vi consiglio YouTube se avete contenuti in cui è qualcosa che non è solamente qui ed ora ma che è qualcosa che può interessare al di là del tempo quindi se fate degli approfondimenti quello che dicevo appunto tutorial o intrattenimento che non è solo su qui ed ora ve lo consiglio perché è l'unico social l'unica piattaforma in cui avete visibilità anche tra due anni su un contenuto che avete pubblicato oggi invece su tutte le altre il contenuto praticamente sparisce entro pochi giorni quindi YouTube consigliatissimo anche se non sentite a vostro non sentite a vostro agio provate degli strumenti per cui non dovete per forza essere davanti alla telecamera uno per esempio che potete usare gratuitamente è Lumen5 lumen5.com gratuito che crea dei video simili a quelli che forse avete visto da fanpage per cui vedete un'immagine del testo della musica sotto riuscite a raccontare delle storie visivamente e se il contenuto di quello che raccontate quindi il crea delle MSIC è un contenuto di valore non serve che ci siate davanti alla telecamera chiaramente riuscite a comunicare più di voi state se ci siete ma non forzatevi di fare qualcosa che non vi viene naturale se proprio non lo volete o meno cercate di sforzarvi ma non usatela come scusa per non pubblicare o per pubblicare più in avanti perché state perdendo occasione di queste come quello che ho descritto prima di qualcuno che ha parlato di voi e non ha modo di conoscervi prima di dovervi chiamare e Google Ads è fantastico ma è un settore a sé Google Ads vi consiglierei se dovete cominciare di cominciare con il business manager di Facebook perché è un po' più user friendly e vi permette di raggiungere altre persone su Google Ads potete raggiungere chi sta cercando un prodotto in quel momento attenzione che è molto facile buttare via un sacco di soldi su Google Ads ci fai vedere un attimino il business manager giusto per far capire di cosa stiamo parlando così Matteo vediamo se riesco a condividere aspetta deve darti Matteo un attimo il ruolo ecco adesso puoi andare in condivisione allora ho premuto il mostra schermo vediamo se lo mostra in tempi decenti sto mostrando lo sbagliato ovviamente no ancora vediamo lo sta ancora caricando monitor 2 dovrebbe caricarlo ve lo descrivo nel frattempo quello che è stato per campagna in cui vi ho che vi sta caricando ancora vabbè ve lo descrivo nel tempo allora quello che vorrei mostrare eccolo ha caricato è una campagna del business manager di Facebook cosa vuol dire c'è uno strumento che conoscete dentro Facebook che anche se avete creato delle inserzioni direttamente con la con il metti in evidenza post su Facebook o su Instagram sono già finite qua dentro e qua dentro ci arrivate con business business punto facebook punto com e finite in questa interfaccia in cui vi fa impostare un po' di cose dopodichè avete la possibilità di andare un po' più approfonditamente a gestire le campagne di advertising è una cosa un po' più tecnica e complessa ma tra quelle tecniche complesse è quella che consiglio sempre di imparare per prima perché è più facile rispetto ad altre è più completa rispetto a quella di LinkedIn e vi permette di cominciare con un budget molto basso cioè riuscite a partire già con un euro al giorno e vi permette di ragionare su come funzionano queste cose una cosa che consiglio è quella di non essere pigri ma di fare questi test di cui vi ho parlato di provare tante variazioni quella che state vedendo è una campagna per Gervasoni che è l'azienda di cui sono digital marketing manager e per cui ho lanciato una campagna outdoor nel periodo che vedete era da febbraio a marzo e non vi ho tolto qua il budget utilizzato ma sappiate che era lo stesso budget ogni giorno cioè stessa spesa ogni giorno vedete che c'è un grande salto tra il 17 di febbraio e il Alessandro dimmi se si vede il mio mouse si 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 vede il puntatore ok è il 21-22 in cui c'è un grande salto non è cambiato il budget il budget è rimasto lo stesso e quello che ho fatto è inserire un sacco di variazioni cioè invece di avere una un'opzione una cosa che stiamo comunicando quindi un'immagine un video magari anche bellissima perfetta ne ho messe non due non tre non dieci ma cinquanta moltiplicate per quattro quindi duecento duecento variazioni e non ho dovuto scegliere io quella questo è voglio mostrarvi cosa è possibile fare poi ovviamente non abbiamo minimamente il tempo per vedere come si fa ma è bene sapere cosa si può fare perché anche se magari non lo fate voi direttamente chiedete a chi lo fa per voi di farlo se voi mettete un sacco di variazioni vi sembrerà impossibile ma lo strumento è impostato per farvi spendere il meno possibile cioè cosa fa prova a pubblicarle tutte all'inizio in modo completamente ando misura i risultati e inizia a mostrare di più quello che piace di più le persone quello che dimostrano di apprezzare di più e non solo lo mostra di più ma ve lo fa pagare anche di meno tutte queste tutte queste piattaforme questo vale anche per Google Ads vale anche per quello di LinkedIn tutte queste piattaforme online sono strutturate su un sistema di asta istantanea che premia chi crea inserzioni che piacciono le persone non per bontà non per etica ma perché la loro moneta principale il modo in cui Zuckerberg continuerà a fare soldi col suo Facebook sarà se gli utenti tornano domani e dopo domani e tra dieci anni e gli utenti tornano se trovano contenuti che li piacciono quindi vi ho dato un'indicazione anche su perché alcuni post vengono visti più di altri vengono premiati i post organici ma vengono premiate anche le pubblicità dimostrano di piacere alle persone perché questo è un modo che ha Facebook di incentivare incentivarci tutti quanti a pubblicare contenuti proprio interessanti quindi vi ho dato una buona notizia alcune ve le riassumo la buona notizia è non serve che capiate esattamente come funzionano tutte le varie altre perché pubblicate un sacco di la parte tecnica perché voi pubblicate un sacco di ipotesi di variazioni di quello che volete fare ed è il sistema al posto vostro a mostrare di più quello che funziona di più però se pubblicate in modo intelligente io qua per esempio non avrei tempo di mostrarvi tutto quanto ma ci sono un sacco di immagini diverse un'altra cosa che io so adesso è quali immagini del catalogo Gervasoni piacciono di più alle persone ma quanto importante è questa informazione cioè in futuro lo so e provo a vedere quelli che stanno funzionando di più quali sono i prodotti che piacciono di più quali sono magari i settori i tipi cose che prima di questa epoca digitale se lo chiedevate ad un'azienda di sondaggi cosa vi costava migliaia di euro solo quella singola informazione figuriamoci tutto il resto ecco questa è una cosa che tecnicamente chiede un po' di investimento quindi se lo volete fare voi serve qualche giorno di studio per imparare a farlo se chiedete qualcun altro imponetevi chiedete che ci sia vi aggiungo ancora una cosa che è anche sul target anche sul a chi mostrare le cose è possibile essere molto intelligenti qua dentro non abbiamo modo di approfondirlo ma sono mostrate solamente queste inserzioni a chi è interessato al design o a chi è interessato al design outdoor ma a chi ha interagito col marchio precedentemente cioè a chi ha visto certe pagine del sito questo si chiama retargeting e poi successivamente c'è un altro insieme di inserzioni che vengono mostrate e pensate che potenza a persone simili a quelle che sono miei fan guardate che potente questa cosa ad altre persone io dico ok facebook mostra chi ha dimostrato di essere interessato al mio marchio facebook lo fa però dice vabbè quanti sono poveracci ci sarà qualche centinaio sarà qualche migliaio e io però voglio raggiungere tante altre persone come faccio a farlo tramite machine learning riesce a trovare persone simili a quelle che tu gli hai dato come cose di potenza e qua ci serve tutto un mondo di cui parlare volevo solo aprire questa finestra sul fatto che addirittura a chi mostrare le cose le cose sono molto cambiate quando ho cominciato a lavorare in questo settore era fondamentale inserire una lista infinita di parole chiave per incrociare quelli che erano gli interessi delle persone ecco che adesso perfino quello chi sta continuando a farlo sta investendo un sacco di tempo per qualcosa che a questo punto da qualche anno viene fatto meglio automaticamente dall'algoritmo ok Fede mi riprendo il ruolo del relatore perché ti strappa un po' la condivisione ma penso che è molto meglio adesso infatti secondo me organizziamo un'altra sessione più avanti di approfondimento perché il tema è estremamente interessante come dici tu machine learning la quantità di dati che questi mega siti hanno collezionato le possiamo utilizzare a nostro favore ovviamente perché di fatto ci stanno facendo un'indagine di mercato a posto zero e ci stanno dicendo dove andare dove andare a parare il colpo bisogna saper leggere i dati bisogna saper usare lo strumento il business manager lo possono utilizzare tutti quelli che hanno un account facebook di fatto quindi basta andare su business manager.com come diceva Federico e già potete guardare un po' come l'interfaccia iniziate un po' a giocarci e poi magari insieme a Federico più avanti approfondiamo il tema per come lanciare delle campagne come fargli a bit test e quant'altro purtroppo non abbiamo molto tempo oggi e pensate poi che ogni piattaforma ha la sua interfaccia di gestione quindi diciamo è un mondo a sé questo del social marketing colgo l'occasione per agganciarmi dal punto di vista delle telecomunicazioni perché è un po' la nostra la materia di tutti noi collegati diceva Federico una volta che ho creato il funnel a un certo punto avrò dei lead delle persone interessate a quello che faccio come contattare queste persone come farsi contattare ci sono varie forme una tecnologia che molti di voi conoscono per WebRTC si presta perfettamente a questo giochino perché riesco a utilizzare il canale web come canale di comunicazione quindi quello che a un certo punto atterra sul nostro sito e anche qui come dice Federico giustamente i siti devono essere aggiornati e devo far trasparire tramite il sito che io sono appassionato di quella cosa ahimè purtroppo devo dire nel nostro settore mi è capitato recentemente di fare un'analisi di alcuni siti web di partner e di aziende del settore fanno spavento cioè siamo rimasti agli anni agli anni 90 cioè brutti template una cattiva comunicazione c'è gente che non ha neanche il sito voglio dire è terribile tutto questo quindi una volta che arrivano nel nostro sito il passo successivo qual è? invece di dargli la solita mail o il numero di telefono dirò al mio cliente clicca qua sono direttamente reperibile sono direttamente raggiungibile per te per darti risposte e colmare qualsiasi dubbio quindi sul sito web esiste la possibilità di annegare uno dei nostri prodotti si chiama appunto contact portal e un altro prodotto si chiama live chat di fatto si presentano come un front end di questa natura con delle presence con delle faccine e dei colori che identificano che la persona è disponibile in quel momento quindi da fuori direttamente vedo che è verde lo contatto e internamente qualcuno mi risponderà con un applicativo che si chiama pro call ad esempio e darà risposta a mie domande però in questo modo qua prendo l'accesso molto più personale perché non trova un freddo numero di telefono poi mi passa qualcuno con chi posso parlare no direttamente vede se io sono disponibile o meno se sono raggiungibile mi può chattare direttamente quindi un rapporto uno a uno e questo è importante perché perché lo schermo e la tecnologia è vero che ci collega ma è ma è freddo cioè chiaramente riusciamo a parlare e magari siamo riusciti anche a un attimo a divertirci insieme quando riconnettiamo via computer ma si perde un pezzo di umanità che è bene cercare di compensare e recuperare quindi mi piace il fatto che ci sia la foto delle persone la presenza e la presenza uno ad uno questo fa parte di quello che dicevo prima del non essere pigri certo che è più facile mandare le persone a un FAQ quindi a un insieme di domande risposte pronte sicuramente è più facile è tecnologicamente più efficiente ma non è altrettanto umano assolutamente tant'è che voglio dire questo genere di tecnologie permettono di ricevere queste chiamate queste richieste direttamente sul proprio smartphone quindi veramente voglio dire personale la cosa ok quindi diciamo gli strumenti ci sono oggi ci sono gli strumenti bisogna mettersi in testa di cambiare secondo me modo di pensare di porsi in un'altra in un'altra dimensione perché io sento troppe aziende lamentare se ho poco lavoro faccio fatica a tirare fuori clienti nuovi lavoro sempre con gli stessi certo bisogna mettere in pista tutta una serie di ragionamenti a partire da promuovere la propria azienda con questi strumenti voglio dire siamo in grado di promuovere anche su aree specifiche quindi se io lavoro sono sull'area di Modena e non mi voglio muovere più di 200 km dalla mia sede potrò indirizzare le chiamate scusate le campagne anche per area geografica quindi è uno strumento ripeto possiamo fare cose veramente magnifiche approfitto ormai il tempo purtroppo si tirano come al solito approfitto per rilanciare un paio di promozioni Let's Go 7 è la nostra promozione per chi volesse acquistare Procall 6 da qua all'uscita di Procall 7 quindi aggiungendo Procall 6 sottoscrivendo un contratto di software assurance avrà diritto automaticamente ad accedere a Procall 7 in maniera gratuita quindi per coloro che stanno chiudendo progetti in questo periodo con l'aggiunta di una software assurance sarà possibile accedere direttamente alla nuova release che come abbiamo visto l'altra volta sarà disponibile per fine giugno un'altra promozione che abbiamo lanciato si chiama Let's Go Trial quindi la possibilità di ricevere le licenze in modalità trial 90 giorni per dare modo alle aziende finali di testare il prodotto soprattutto quelle aziende che hanno bisogno di fare smart working di continuare con lo smart working o di rendersi comunque dinamiche e mobili nel lavoro noi come Essos dall'altra parte mettiamo forniamo supporto gratuito per questa fase di trial quindi vi aiutiamo a mettere in pista l'infrastruttura a titolo completamente gratuito termino con un'altra promo il prossimo webinar un qualcosa di un po' più ludico parleremo della storia degli on computer e personal computer storie di successo dei clini un'era che voglio dire appartiene un po' a tutti noi perché tutti noi appassionati di informatica ci siamo avvicinati negli anni 70 siamo stati catturati da da questo oggetto che potevamo metterci in casa e collegare al televisore quasi una cosa incredibile ed era proprio personal cioè potevo farci delle cose tutte mie ed è forse questa questa cosa che ci ha particolarmente attaccato al mondo dell'informatica che oggi voglio dire appartiene a tutti quanti fa parte della vita quotidiana ha cambiato anche socialmente le nostre abitudini ma il nostro ospite Luca ogni bene che è un collezionista quindi ha a tutti gli effetti nei suoi uffici computer di un certo calibro come l'Apple 2 l'Apple 1 no ahimè ma l'Apple 2 e macchine tipo Commodore Pet eccetera eccetera ed è molto bello ascoltarlo perché perché questo ha avvicinato proprio tutti noi all'informatica è bello rivivere un po' la storia anche dei grandi player per capire in cosa sono stati bravi e in cosa anche hanno sbagliato da questo si impara molto perché ovviamente anche oggi anche oggi noi come aziende stiamo percorrendo esattamente gli stessi passi sotto altre forme altre dimensioni ma sta a noi decidere il futuro della nostra azienda e sta a noi impostare bene le strategie aziendali per avere successo o meno quindi ascoltare ricche storie vuol dire aiuta sempre sono delle lezioni di vita dal mio punto di vista e lasciamo prima di chiudere ancora qualche minuto per le domande chiedo a Matteo che è il nostro regista se hai delle domande sulla piattaforma allora sì c'è una domanda che sono sicuro susciterà l'interesse di Federico ci chiedono qualcosa su TikTok ha il pubblico più giovane degli altri social quindi forse non è per tutti però adesso sta esplodendo con nuovi user c'è la domanda e c'è anche la risposta la domanda è una qualche tua considerazione riguardo questa nuova piattaforma sì sì certo chi è stato ai miei corsi e adesso mentre parlava Alessandro ha avuto modo di vedere partecipanti saluto Carola beh Cristian che ci conosciamo Daniela vedo che c'è Ismaele vedo tanti con cui già ci conosciamo mi hanno già sentito chi è stato recentemente ai miei corsi mi ha già sentito parlare di TikTok e ho modo appunto di ripeterlo e di aggiornare il consiglio fino a qualche mese fa fino all'anno scorso dicevo che è il posto in cui effettivamente ci sono solo giovanissimi però osservate cosa sta facendo ecco che l'ha già fatto sono passati pochi mesi ma già adesso sicuramente in America io osservo il mercato globale più dell'Italia non per per niente ma perché uno mi tengo un po' più attivo l'inglese e due perché così soprattutto sembro più intelligente perché semplicemente copio le cose che fanno gli americani e noi ci arriviamo dopo io li tiro fuori come se fossero idee innovative comunque stiamo arrivando molto velocemente anche noi in Italia sempre più in tempo reale e si sta espandendo esattamente come dice non sono più solo i ragazzini ma ormai siamo anche noi vecchietti non sono l'unico io su TikTok ma ce ne sono tantissimi della mia età e anche oltre e non è solo per chi l'ha conosciuto è conosciuto un po' come i i video molto brevi che richiamano un po' quelli di Snapchat un po' scherzosi stupidi con balletti e magari anche balletti scosciati ecco non è più solo quello ricordatevi che una volta era tacciato come cosa per ragazzini e stupido Facebook sembra incredibile e invece adesso Facebook ha la fama di essere quello che usa la nonna e nessun altro e non è che siamo vecchiati così velocemente semplicemente passano da una persona all'altra TikTok e ancora adesso insieme a LinkedIn sono le due piattaforme in cui è possibile avere veramente visibilità organica cioè senza doverlo promuovere a pagamento quindi uno se ho contenuti che penso che siano interessanti quindi seguendo quel modello o comunque quel modo di pensare che vi suggerivo prima o modo di raggiungere nuove persone se anche uso quella modalità che vi dicevo di creare qualcosa di veramente interessante per le persone è difficile comunque crescere organicamente su Facebook e su Instagram invece su TikTok è assolutamente possibile e anche in parte su LinkedIn quindi questa è una cosa che è vera l'altra cosa è vi consiglio comunque di andarci e di imparare come funziona perché sta cambiando velocemente c'è sempre più più persone sopra è sempre più difficile farsi vedere e quindi potete uno crescere in questo momento di transizione per cui man mano diventerà sempre più popolato e quindi si perderà quella visibilità che c'è adesso ma non solo imparate la sua grammatica imparate il suo modo di parlare prima che ci arrivi nei vostri clienti così quando voi quando ci arrivano tutti gli altri voi avete già imparato a parlare contestualizzato in quella cosa altro motivo per farlo è una cosa che dico sempre è che il marketing in generale poi quello digitale in particolar modo non è una cosa che si risolve con teorie e schemi ma è uno sport di contatto cioè sono bravo a comunicare solo se comunico ogni giorno solo se mi alleno e quindi gran parte del problema che abbiamo è che siamo imbarazzati o pensiamo di non avere ancora la capacità di fare le cose fatte nel modo giusto quindi andare su piatto e forma in cui non ci sono ancora i nostri clienti è un buon modo per farci le ossa per essere un po' meno imbarazzati prima che ci arrivino tutti quanti era lo stesso consiglio che davo un po' di anni fa a chi mi chiedeva se era il caso di cominciare a usare le storie di Instagram e come vedete avete visto che la storia è davo lo stesso consiglio e infatti tutti adesso sono nelle storie di Instagram e non so se lo sapete ma sono più visualizzate addirittura dei post classici Instagram quindi assolutamente sì è interessante starci su TikTok e l'ultima informazione che vi do è sì non ci sono più solamente i balletti scosciati ma ci sono argomenti sta già segmentando è l'intelligenza artificiale tra l'altro l'algoritmo che ordina che vi mostra dei contenuti diversi è molto molto avanzato per cui per esempio io l'ho allenato semplicemente col fatto che seguo e metto like su TikTok il cuoricino alle cose che mi interessano e mi arrivano solamente contenuti di marketing su TikTok il social network che era solo quello dei balletti dei quindicenni fino letteralmente a cinque mesi fa è possibile se vi mostro il mio c'è un contenuto di marketing dopo l'altro perché l'algoritmo ha imparato che a me interessa quello quindi vuol dire che non solo si sta spostando ma anche molto velocemente c'è già competizione certo Federico che dirti io starei qua ad ascoltarti che ancora tre giorni con il cuore è un piacere veramente io più che ringraziarti non so cosa fare cosa dire hai dato delle informazioni molto utili ci hai chiarito un po' le idee di come porsi come dici tu giustamente con dei contenuti con delle informazioni con la propria passione che è la cosa che traspare sempre più di tutto dico io chiaramente se sei disponibile ti invito più avanti e magari organizziamo qualcosa di mirato proprio andiamo sul pratico facciamo un laboratorio e facciamo toccare con mano ad esempio il business manager di facebook facciamo così facciamo quello che ho detto facciamo il calzolaio non con le scarpe rotte diteci voi cosa volete approfondire quindi li ascoltiamo ho detto che è importante ascoltare ascoltiamo quindi se volete avete la possibilità voi che siete collegati su facebook o su il go to webinar avete la possibilità di influenzare quale sarà effettivamente il prossimo argomento io stesso tra l'altro a parte quelli che facciamo sto lanciando diversi corsi attivi che saranno anche online ce ne sono di finanziati però non so quando partiranno ma ce ne sono anche a pagamento anche là è possibile influenzarmi anche se là dico subito che lo farò inizialmente sul come creare una pagina di atterraggio una landing page un semplice sito perché come hai detto tu è importante comunicare avere un posto che è casa tua e che è sistemata tu non puoi che sei attento ai dettagli e che sei che sei meticoloso se poi mi mi mandi su un sito che ha lo sporco per terra si dimostra di più su come si fa che su quello che si dice e quindi penso che quello sia fondamentale quindi se volete già partire con un contenuto che vi posso dare io andate sul sito che Alessandro ha messo qua nella slide che è il mio sito vi scrivete non ho ancora pubblicato nulla riguardo però vi anticipo che voglio cominciare con quello altrimenti qui su webinar o su esso scrivete direttamente Alessandro ci mettiamo d'accordo è una cosa su cui si potrebbe parlare partire effettivamente proprio il business manager di Facebook perché anche quello ha un grandissimo valore per tutti qualunque cosa fate assolutamente bene Federico ti ringrazio e invito tutti quanti a registrarsi al prossimo webinar per mercoledì prossimo parleremo di home e personal computer l'abbiamo chiamato retrocomputing casalingo perché è proprio questo di fatto Federico ti ringrazio nuovamente ringrazio tutti i nostri ascoltatori quanti ci hanno seguito oggi e vi auguro una buona serata e ovviamente anche una buona settimana grazie ancora ciao grazie a tutti ciao 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 ciao